C'è una fase di costruzione politica. È nata nel 1997 e da quasi 24 anni raccoglie informazioni sul nostro territorio. È la banca dati Valle del Metauro, il cui sito è www.lavalledelmetauro.org ed è la più frequentata al mondo in materia di funghi, ma che raccoglie ed offre informazioni che spaziano dagli aspetti naturali come flora e fauna a quelli antropici, come feste e tradizioni. Ideata e realizzata dall'Associazione Naturalisti Cargonauta e di proprietà in parte del Comune di Fano, oggi però la banca dati non gode del giusto riconoscimento dovuto per un così ampio lavoro fatto peraltro su base volontaria. Un riconoscimento non ottenuto nemmeno dagli Stati Generali del Turismo. Io sono molto deluso per la mancata considerazione di un lavoro immenso che da 23 anni facciamo come associazione argonauta. La necessità di stare insieme tra i comuni del territorio, della valorizzazione del patrimonio, per esempio la Basilica di Vitruvio, per esempio la Città dei Bambini, per esempio altre cose come la Romanità, eccetera. Però nonostante tutto quello che già esiste nella banca dati non viene preso in considerazione. Quindi sono molto demotivato e non so se continuerò a occuparmene. Una quantità enorme di dati che si aggira attorno a 40.000 tra immagini e schede e che vede ogni giorno fino a 1.000 visitatori. Dovrebbe essere aggiornata in maniera continua, ma da due anni a questa parte va a rilento a causa della mancanza di un gruppo di lavoro fisso. Consultata da università, scuole e professionisti, inoltre, non sempre viene citata come fonte. Tra i progetti futuri necessari per la vita della banca dati, l'espansione ai social ed il coinvolgimento di fondi e finanziamenti richiesti alla pubblica amministrazione attuale, oltre alla realizzazione di un database e sito a cui si accede con un banner dalla banca dati e viceversa. Non siamo molto citati come fonte, perché conviene sempre al professionista dire che il dato l'ha trovato lui. Attualmente cosa succede? Ci succede che ci sono delle repliche. Porto per esempio il Montefeltro, dove hanno fatto la banca dati, che è una fotocopia di questa, che ha pochissimi contenuti, moltissime strutture turistiche, alberghiere, ristoranti, eccetera. Questo va benissimo, cosa che avevamo proposto anche noi, ma come una struttura a parte da cui si accede anche dalla banca dati. La cultura, i dati tecnici con il turismo in un minestrone, diciamo che non renderebbe, sarebbe un enorme spreco di denaro pubblico.